Un'altra cosa che ci sta ancora più a cuore, perché? Perché voi sapete che noi con Patto di Sangue siamo stati, assolutamente i primi in assoluto, a fare proprio il disagio di un Lazio che è maglia nera, così come la nostra città, in ambito di donazione di sangue. E per questo ci stiamo adoperando con il Patto di Sangue che ha visto i nostri testimonial, lo sentite tutti i giorni, Gigi Proietti o tutte le persone note o ignote che chiaramente ci si sono affiancate, comprese le istituzioni, vedi la regione, vedi la provincia, vedi il comune di Roma. Adesso ci occupiamo di un'altra evenienza che ci farà brividire e che naturalmente poi ci sta molto a cuore. Qui però c'è anche un discorso di etica, di pensiero, perché? Perché parliamo di donazione d'organi, donazione d'organi purtroppo anche in questo argomento il Lazio è in emergenza. Allora, il problema qual è? E' che se i donatori sono in calo e i pazienti che attendono invece sono sempre gli stessi, sono 937 per esempio i pazienti che attendono ancora un organo, ebbè bisognerà parlarne. Noi questa mattina lo facciamo con un referente d'eccellenza nella persona di Jean de Ville de Goyer che è direttore del centro trapianti del Bambin Gesù. Dottor de Goyer, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto, grazie intanto. Grazie mille. Allora, ecco, con lei vorremmo appunto sensibilizzare le decine di migliaia di persone che la stanno ascoltando su questo enorme problema. Sì, è vero che non è una storia recente, è la storia della trapiantologia in generale, che la domanda di organi per trattare i più pazienti sta alzando con il tempo, abbiamo possibilità di richieste molto più numerose che possiamo fare oggi, e infatti dobbiamo limitare le indicazioni, questo è un primo fatto, vuol dire che anche sulla lista non vengono assolutamente tutti, perché ci sono regole e ci sono contraindicazioni che sono relative, che sono offerte alla terapia standard quando il trapianto potrebbe essere un'alternativa. Allora, dobbiamo limitarsi perché infatti la limite è la donazione. Nella donazione abbiamo alternative alla donazione classica che si fa a cuore battente con una morte del cervello, ci sono alternative e l'Asio sta sviluppando le alternative che sono possibili. Non tutto è possibile, perché anche in Italia ci sono altri tipi di limitazioni, anche la legge. Cos'è che noi, tutti, voi che ascoltate questo, io a casa, tutti in famiglia, è aumentare il tasso di, o diminuire il tasso di rifuso dalla donazione. E' vero che attraverso tutta l'Italia c'è uno da tre donatore potenziale che non è utilizzato, non dà il cuore, le due reni, un fegato che può essere anche diviso in due polmoni, che vuole dire cinque o sei vite che possono essere salvati attraverso questi organi, è rifusato per motivi che a volte è detto che è religioso, a volte è detto che non so la volontà della persona. Vuole dire che non è ancora chiaro per tutti che dal punto generale non c'è una sola religione che non sopporta la donazione, che dal punto delle famiglie e delle persone, dire che non so quello che lui, che è il decesso, avrebbe pensato, ma potrebbe che andando a dire no, va contro la sua opinione anche. Ma è vero che un tasso di rifuso di 30% attraversa tutta l'Italia riduce il numero di reni, di fegati, di cuore disponibili per trattare le pazienti da trapiantare in modo molto significativo. E questo non richiede una legge, non richiede una fortuna, è da simplemente dire sì. E questa è una cosa che ognuno di noi può fare. Certo, è una scelta individuale. Dunque, dottor De Goyer, nelle volte che io mi trovo a trattare questo argomento con persone, mi trovo di fronte anche sovente alla stessa giustificazione. Vale a dire, c'è la paura che, siccome gli organi vanno espiantati a caldo, mi corregga sempre se dico delle inesattezze. Al momento sì, ma ci sono delle alternative che dobbiamo vedere nel futuro. L'organo il medio è quello che è ancora a caldo, perché a caldo vive meglio. Appunto, ecco, allora molti fanno resistenza perché dicono, e se poi in realtà la mia morte clinica non è effettivamente tale, e se poi qualcuno, per esempio, su soggetti in avanti con la propria esistenza può essere spiantato. Ha capito a che cosa mi sto riferendo, vero dottor De Goyer? Sì, ma questo penso è un manco di fiducia nel sistema legal, nel sistema sanitario, e nel fatto che noi specialisti abbiamo una serie di accertazioni di morte, di controlli e di condizioni per fare questo controllo, che fa che una persona che è dichiarata morte per il prelievo non torna più a vita. È vero che nella letteratura e nella pratica clinica ci sono gente che sono detto in coma, che sono malissime, che sono anche detto guarda che non c'è più nessuna chance, poi vengono e possono ritornare. Ma quelli non sono stati, primo, non sono stati proposti per la donazione, perché altrimenti non sarebbero tornati. Ma è vero che non sono mai stati assessi con le condizioni, e le condizioni molto precise che noi richiediamo per dichiarare la morte con ancora il cuore battente. Non è possibile pensare che con le condizioni che noi chiediamo, con la certificazione di almeno tre persone indipendenti dell'equipe di trapianto, c'è possibilità di sbagliarsi. La legge ha fatto che le condizioni sono molto precise e impossibili sbagliarsi. Certamente, quindi ecco, io mi auguro che chi la sta ascoltando sia franchi da questo sospetto, perché è del tutto infondato questo, quantomeno per quanto riguarda la fase clinico-scientifica. E poi ce n'è un altro, dottor De Goyer, che è quello religioso. Credo sia il più forte dal mio punto di osservazione. La sua idea in merito qual è? Io lavoro nel campo da 25 anni, ho fatto anche giri in Inghilterra, sono in contatti con tanti paesi di religione differente. So assolutamente che dentro le tre religioni principali che vedo in modo abituale, che sono le musulmane, le cattoliche e anche quelli che... non conosco la parola in italiano, da Israele. Ah sì, sì, l'ebraico. L'ebraico, sì, scusa per non sapere. No, ma lei parla un italiano esquail. Allora, le più grandi persone a che posso riferirmi dentro queste tre religioni hanno confermato che non c'è opposizione. Le persone pensano che, ah, guarda, devo andare intero. No. È stato detto nella religione cattolica che è meglio arrivare piccolo e senza bracci, senza le gambe, e entrare nel paradisio. È un atto, è stato detto che è un atto di generosità ultima. Certo, certo. Per la religione cattolica non c'è assolutamente nessun dubbio. E per le altre, le grandi persone dentro queste religioni hanno detto la stessa cosa. Non c'è assolutamente nessuna contraindicazione e si rileva più della decisione personale. Certo. Da ultimo le chiedo, dottor Degoyer, dunque c'è un limite anagrafico, oltre il quale non si può prendere in esame un espianto d'organi, o un limite anche, ovviamente, salutistico-sanitario? No, c'è un limite di salute. La limite di età, possibilmente, va con la limite di salute. Ovviamente, a 80 anni di età, ci sono più contraindicazioni di salute che all'età di 25. Certo. Ma noi vediamo la condizione generale, l'anamnese, se la persona ha fatto il diabete, l'ipertensione, nelle medicine, ovviamente non è un candidato ideale alla donazione. Certo. Ma è più la condizione di salute senza riferirsi all'età. E' vero che nell'Asio, per esempio, ci sono una quantità importante di donatori che hanno più di 60 anni di età. Certo. E gli organi sono di qualità, se la persona è di buona salute. certamente. E con uno stile di vita che chiaramente l'ha portata a 60 anni, idoneo ad un'operazione di gelo. Sì, ma in Italia è con la dieta e con il climato e il modo di vivere. le persone vanno avanti in età avanzati e con una buona salute. Certamente. Certamente. Noi la ringraziamo molto, saremo sempre a parlarne nell'intento di portare il nostro contributo a che questa crisi possa diminuire. Caro dottore De Goyer, la ringraziamo moltissimo. Di niente, di niente. Buongiorno. A lei, buon lavoro. A Jean-Deville De Goyer, direttore del centro Trapianti del Bambino Gesù. Grazie a tutti.